amici carissimi di auto occasioni un saluto a tutti voi oggi una puntata davvero mastodontica e vi vado a spiegare perché mi trovo da spazio in via alla distora 84 la città dell'auto pensate che siamo concessionario ufficiale di stellantis hyundai toyota lexus dr e dong feng dopodiché 2000 vetture usate in pronta consegna a queste si aggiungono tutte le vetture che troviamo nelle altre due sedi a moncalieri e in via race romoli 290 pensate battezzata la città dei tanto amati chilometri zero e a questo punto anche 100 consulenti tutti per voi ne abbiamo selezionato uno particolarmente sintatico che il nostro alessandro gaggiolini ciao ale ciao e buongiorno a tutti voi oggi una grande notizia per i nostri amici a casa esatto la grande notizia è di latte allora vedete in sovraimpressione qualche cosa che è un qr code che cosa succede se la inquadrano i nostri amici allora questa ragazzi è una cosa fantastica unica e mai vista inquadrate il QR code e indovinate un po trovate un tesoretto trovate un pacco di soldi quanti non ve lo dico lo dovete scoprire ma vi assicuro che la sorpresa è incredibile e a questo punto che dire abbiamo tantissime vetture ne abbiamo selezionate qualcuna direi che andiamo a presentarle perfetto ed eccoci qui ci piace partire da una sezione particolarmente accattivante che è la sezione dedicata alle top car qua a fianco a me vedete questa meraviglia siamo nel mondo audi abbiamo una meravigliosa audi rs3 sport back pensate 400 cavalli di potenza e il prezzo è altrettanto interessante 65.900 euro guardate la meraviglia qui a fianco a me siamo in casa bmw per una splendida serie 1 m 135 300 cavalli di potenza immatricolata nel 2021 e potrà essere vostra pensate a 42.500 euro e dal mondo luxury passiamo invece al mondo green tantissime proposte per rispettare sempre al massimo l'ambiente e partiamo con questo splendido esempio si tratta di una jeep renegade 4x e plug-in hybrid immatricolata nel 2020 giovanissimo ha percorso poco più di 7.000 chilometri è un prezzo davvero interessante qui da spazio potrà essere vostra pensate a 23.900 euro e se vi dicessi uno sconto fino a 7.000 euro su tutte le vetture green straordinario come straordinario la linea modernissima di questa vettura stiamo parlando di una volkswagen id3 completamente elettrica immatricolata nel 2022 ha percorso pochissimi chilometri poco più di 30.000 e il prezzo dello svelo pensate 19.900 euro per tutti gli amanti di casa peugeot guardate questa meraviglia una peugeot 2008 all'urpak immatricolata nel 2022 zero chilometri prezzo interessantissima per questa vettura completamente elettrica 24.500 euro totalmente elettrica anche questa vettura una hyundai kona pensate immatricolata nel 2021 ha percorso appena 9.000 chilometri il prezzo qui da spazio 29.500 euro linee ipersinuose per questa jaguar e pace 2000 di cilindrata ha percorso 66.000 chilometri e ha un prezzo interessantissimo di 32.500 euro qui da spazio e sono a fianco a questa splendida jeep wrangler allestimento sahara è stata immatricolata nel 2020 e ha un prezzo super accattivante perché qui da spazio questa meraviglia potrà essere vostra a 55.000 euro e per muoversi agevolmente anche in città questa splendida hyundai i20 che ha percorso 33.000 chilometri e può essere vostra a 18.500 euro e ancora una urban city con questa splendida opel crossland che ha percorso 37.000 chilometri e ha un prezzo riservato solo per voi di 16.900 euro e per tutti gli amanti come me della toyota yaris pensate che abbiamo moltissime varianti vi faccio un esempio toyota yaris 1500 hybrid 31.000 chilometri prezzo super speciale 17.500 euro rosso passione per questa jeep renegade 1000 di cilindrata immatricolata nel 2021 ha percorso 23.000 chilometri e il prezzo è di 19.900 euro una sezione interamente dedicata ai tanto amati chilometro zero qualche esempio per voi qui a fianco a me questa splendida mg hs 1500 luxury pensate che ha percorso naturalmente zero chilometri e ha un prezzo super 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 avvicinabile perché ha un prezzo di 24.500 euro chilometri zero anche per questa citroen c3 aircross 1200 pure tech al prezzo di 18.900 euro e la bellezza di questa dr una dr 6.0 1500 turbo gpl che può essere vostra a 28.900 euro ale ma che puntata straordinaria perfetta direi perfetta per i nostri amici le ragioni per cui dovete venire qua sono evidenti sono moltissime ma noi prima di salutarvi ve ne ricordiamo ancora due la ciliegina sulla torta un uccellino mi ha detto che se per caso che acquista la vettura poi cambiasse idea che cosa succede cosa possiamo fare qui allora pensa che acquisti la vettura la utilizzi per 15 giorni o 2000 chilometri e se non sei soddisfatta noi te la riprendiamo a costo nostro non ti spendi nulla te la puoi cambiare e sostituire e questo dà davvero tanta leggerezza nella scelta una leggerezza sottolineata anche dal fatto che costi più bassi di questi non ce ne sono i prezzi migliori sono qui mi pare mi hanno detto questo è il nostro vanto diciamo da un punto di vista di prezzi nessuno ci batte comunque se qualcuno pensa di avere un prezzo più basso noi lo raggiungiamo mi raccomando inquadrate il qr code perché ci sarà uno sconto extra per voi e a questo punto un saluto carissimo un saluto carissimo da parte di spazio da parte di auto occasioni e da parte nostra di alessandro e di fede ciao bella